È un momento di festa per la Chiesa di Pompei. Ha preso il via la causa di beatificazione e canonizzazione di Monsignor Francesco Saverio Toppi, arcivescovo di Pompei dal 1990 al 2001. L'insediamento del Tribunale Canonico nel Santuario Mariano della città Vesuviana si è svolto in coincidenza con il settimo anniversario della morte di Monsignor Toppi il 2 aprile 2007. L'attuale arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, dopo aver ricevuto la richiesta di Padre Carlo Calloni, postulatore generale della causa di beatificazione, ha ottenuto il nulla osta dalla congregazione per le cause dei Santi. Nella spiritualità francescana di cui lui era innamorato, era un cappuccino, tutto deve essere restituito a Dio. È rimasto un uomo di speranza, perché è uomo di fede, uomo di carità, uomo del vero amore. Adesso si attendono le testimonianze sulla vita di Monsignor Toppi che possano contribuire alla causa di beatificazione. Monsignor Francesco Saverio Toppi ha voluto essere sepolto nella cripta per essere il piedestallo della Madonna, per dire a tutti che la speranza è quella virtù da mantenere sempre giovane, perché ti fa vedere l'orizzonte sempre bello, sempre aperto, ti fa vedere il venire continuamente di Dio. Grazie a tutti.